Ciao, sono Cristian Cassina, sono un diplomato del liceo scientifico Pierluigi Nervi, anno 1995, ormai vent'anni fa. Ho un ottimo ricordo del liceo al quale devo tanto. Devo tanto perché più che nozioni mi ha insegnato un metodo di studio e al liceo ho potuto conoscere dei professori, tanti dei quali insegnano ancora lì, verso i quali ho un debito di riconoscenza, proprio perché mi hanno aiutato a imparare a studiare e a ottenere i risultati che avrei dovuto ottenere durante i miei studi. Attualmente ho un'attività assieme ad un socio, ad un collega, facciamo sviluppo software di applicazioni per il mondo business e applicazioni mobile e se sono qui è anche e soprattutto grazie al liceo, visto che poi all'università ho fatto una scelta un po' strana che non c'entra nulla con l'informatica ma lasciamo perdere. Sono qui per augurarvi un bocca al lupo, spero possiate scegliere questa scuola, non ve ne pentirete. Sarà, non dico dura, sarà giustamente dura. Vi saranno richiesti un certo impegno, una certa dedizione, ma saranno sempre premiati e soprattutto quando ci saranno delle difficoltà potrete trovare delle persone che veramente vi daranno una mano. Pertanto, grosso in bocca al lupo e spero vi possiate trovare bene, tanto quanto mi sono trovato bene io. Ciao a tutti!